Ragazzi, partita finale, attenzione, finalissima, Clash contro 3D Max. Team italiano in finale di Ghigli, che sicuramente avrete visto su YouTube, sono qui a commentarla con Nemos, Nemos, stai carico? Mamma mia, sto impazzendo ragazzi. Un team italiano, è già qualificato per la finale europea, ma potrebbe vincere il primo posto della week, che gli va a consegnare 600 dollari di vittoria, da dividere ovviamente tra i player. Si comincia ragazzi con Mounties, scusate che c'è l'audio leggermente basso, ve lo alzo. Dall'altro, ricordiamo Ghigli, nuovo acquisto, Clash, penso sia uno... Dai, io lo dico, Grax, mi sbilancio. Vai, vai. Forte di ProStars attualmente, in circolazione. Sicuramente lo dimostrerà su questa finale. Ricordo ragazzi, Best of Five contro un team francese 3D Max, e ricordo ancora che il PSG ha vinto la scorsa finale, potrebbe vincere anche in questa live, anche in questa week, un altro team francese. La Francia sta dominando, grande kill di Ghigli, eccolo lì che si fa vedere subito. È partito, guarda, guarda come non colpisce. È abbastante, GG. Ha giocato molto meglio del pick avversario, perché sta riuscendo a tenerlo più in basso di metà del campo. Quanto mi piace il Brock, quello lì, giapponese, cinese sulla destra. Ma in questo momento vorrei vederlo giù. Vorrei vederlo giù quel Brock. Si difa Clash, ragazzi. Come sa bene le distanze, guarda come schiva. Non si prende neanche un colpo. 3-0, 27... No, 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 glielo ho gufata. Sì, 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 Dio mio. Ovviamente c'è la giampata, calmi, raga, calmi. E non si devono far chiudere da una possibile ulti di Brock. Potrebbe essere... Bravo, Ghigli. Bravo, Ghigli. Vai, Ghigli. 5-0. Mamma mia. Ragazzi, è un fenomeno. Ragazzi, ufficialmente un fenomeno. 9-0. 9-0. E io vi chiedo di supportare questa finale. 1-0. 1-10. Ragazzi, supportate questa finale. Potrebbe vincere un team italiano. Lasciate like e iscrivetevi a tirare la campanella, perché probabilmente uno di noi forse streamerà la prossima settimana, ma al 100% streameremo il 29 settembre la finalissima europea e ci sarà almeno un team Clash, perché devono ancora giocare la terza e il quarto posto. Esatto. Oggi sono anche in versione placement. Mamma, quanto sei bello con quella maglia. Mamma mia, Nembo, voglio la finale, voglio la vittoria di Clash. Voglio la vittoria, voglio assolutamente la vittoria. Se finiamo ti spedisco anche la felpa. Vai. Allora, ho il braccialetto, quello di gomma. La felpa è carina, non ce l'ho. Mi manca il cappellino, non ce l'ho. E vabbè. Guarda, felpa è cappellino. Eccoci qua. Rain decide di mettere Mortis per dare fastidio al tick avversario. Vediamo se ci riuscirà. Ha preso anche la stella, a meno che vogliono provare l'1-0, ma è impossibile. Con un ghigli è così. Con un ghigli è così che fa subito una kill. Ma su questa mappa l'1-0 è impensabile. Guarda, forse su Arena stratificata, quasi quasi. No, ma lui sa, guardate ragazzi, è esattamente la distanza del colpo di Vyper. Adesso se l'è preso. Però prima l'aveva schivata. Prima l'aveva schivata. Senta la mia pressione. Altra cosa importante, se volete trovate il primo link in descrizione, ragazzoli, oltre che al canale di Nemos per fare l'iscrizione da Nemos, che è arrivato forse ad 80.000 iscritti, trovate il link per fare l'apparamento, 1,99 euro, per sbloccare i 32 modi con carinissime, coccolosissime. 2-1, mamma mia che partita questa. Vai Ghiglia, vai Ghiglia che lo dirigevo, dirige il Mortis pettinato. Dagli una pettinata. Vai signor Ghiglia. Pettinavo il Mortis. Vorrei anche che la ulti di Dick... Pettinalo tutto. Lo vado a pettinare. Si stanno un po' schiacciando, però la ulti... Ghiglia deve vincere questo campione. Mamma mia l'ha vinto. Oh my god, che predict di Tom. Bravissimo Dick che lo copre. Bravissimo Dick che lo copre, ragazzi. Potrebbe essere un set 1-0. Dovrebbe andare giù Mortis. Se non fanno grossi errori, c'è la ulti di Brock. Andato giù Mortis, ragazzi. 8-1. Andato. Guarda Ghiglia. Attenzione. Attenzione, calmi, calmi, calmi. Ulti di Brock sprecata. Troppo presto, per fortuna la buttata via. 4-8-18 secondi. Si può sia perdere che vincere. Arriva la giampata. Arriva la giampata adesso. Mamma mia, come ha fatto a vincere la rega. Ma come ha fatto a vincere la rega quella fight. Ma come ha fatto a vincere quella fight. Impossibile. 11-7. 13-7. 1-0. Vamos, Crash. Bounty a casa. Archiviata. Pulita la Bounty. A casa i pollastroni. 1-0. Io ti dico che la seconda è gemgrab. Arco doppio. Pronosti con M. Grobole lo vinceranno i 3 D-Max e si deciderà tutto all'ultimo. Ok, quindi possibile 3-1. Probabile 3-1. Eccolo, Chiglie Coppoccio. Lascia Piper. Probabilmente gliel'hanno bannata forse. Hanno capito Chiglie, sei troppo forte con Piper. Te la tolgo, basta. Il roller che usa meglio non l'abbiamo ancora visto perché è tara. È tara. Non l'ha mai giocato. Se lo tiene magari per la finale europea. Chiaramente gli ha detto, basta Chiglie, vieni a cena, smettiti di giocare con Piper. Attenzione. Occhio. Piper è molto buona, ragazzi. Colpisce molto forte qui. È vero che c'è quel pocio che verrà supportato. No! Chiglie fa una ulti che non... What a kill? Mamma mia! Aspetta, non riesce, non riesce a prendere le gemme. Aspetta, aspetta, aspetta. Non riesce. Aspetta. Occhio, occhio. Bella schiva. Difficile, ragazzi. Difficile. Senza Piper è difficile, ragazzi. Il loro 8-bit sta giocando meglio del nostro. Occhio 3-board. Mamma mia, raga, che movimenti. No, l'Enein è illegale. Mi mancano due gemme. Ghiglie deve riprendere vita assolutamente. Ma quanto è forte l'Enein! È fortissimo. È fortissimo. Mamma mia, ragazzi. Eh, l'ho detto che erano forti. L'ho detto. Mai sottotitare gli avversari. Ancora. Lo sai che c'è? Che non ci sono brawler che possono... ribandare la partita con una tara. L'Enein, raga, non è mai morto. Cioè, non voglio sbagliare, ma credo che l'Enein non sia mai morto. Li ha killati tutti. Guarda, ti faccio un predict. Adesso vedremo, secondo me, Ghiglie con Tara. La mette? La sfoderà? Già partiti? Wow. No. Ah, Ghiglie. Allora non ho bannato Piper. Ha provato il pocio. Aia, ragazzi. Cambio totale dall'altra parte. Neanche un pocio, ragazzi. Eh, non è facile. Rosa. Uh. Anche Alcari. Si ha fatto su con Piper. Vai, Kaos. Vai, Kaos. Vai, Kaos. Bella kill. Vai, Kaos. Mamma mia, che kill. Mamma mia, che kill. Oh, mio Dio. Vabbè, 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 vabbè. Vai, bro. Fermati. Oh, my God. Anche quello è un'ottima kill, eh. Sì. Ragazzi miei. Cosa abbiamo visto? Mando un abbraccio a quelli che erano in live, ragazzi, che si sono visti la più bella partita, credo, mai fatta in assoluto su Foodbrawl. Mai fatta, mai fatta. Ragazzi miei. Bella, bella kill di Tom. Bravo, Tom. Quello è un problema, eh. Vai, trepore, vai, trepore, vai, trepore. Doppia, 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 doppia. Bravissimo. Vinta, 1-1. Dai che 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 1-1. 1-1. Sì. Sì, Spike tiene rosa all'infinito. Sì. Muove. E adesso si boostano anche i danni. Sì, 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 sì. Let's get it, 1-1. Mamma mia. Questa è la finalissima, ragazzi, ricordo. Ci giochiamo tutto su Foodbrawl. Sì. Il team Clash porta a casa questo set. 2-0. E match point totale va giù. Mamma mia, va giù l'8-bit. Calmi. Bellissima. Mamma mia. Eh, si è un attimo stoppato, raga. Pazzito... La regia? No, 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 no. Questa non è una partita nuova. Guarda chi. Guarda Ghiglia, raga. Ha messo Piper. Ha messo... Mi sa che stanno laggando, ragazzi. Non lo so. Spero che stiano laggando. Perché se non stanno laggando Ghiglia con Piper è di un altro pianeta, ragazzi. È di un altro pianeta. Si fa killare, ma tanto le gemme sono lì. Attenzione. Va giù le naine. Perfetta quella kill. Il doppio kill è Chaos. GG. GG, le gemme sono tutte al centro. Giustamente, raga, non prendono le gemme perché le gemme le prende sempre quello con midda. In questo caso è Piper. Ahia, grande colpo da parte di Alcari. Buono le naine. Ghiglia al boost dei danni, eh. Ghiglia al boost dei danni. Molti danni da parte di le naine. Bravo i Chaos. Fa una kill importante. Ulti per le naine. Eccolo lì sulla destra. Fight 1v1. Mamma mia. Attenzione alle naine. Attenzione alle naine. Ce l'è dietro. Ce l'è dietro. Ghiglia. Ce l'è dietro. Bastano due colpi. Uno, due. Undici. No, i Chaos se li ha persi. Tranquillo, tranquillo, tranquillo. Trebo, tranquillo. Tranquillo, caro. Tranquillo, caro. Mamma mia, ragazzi. È un piacere vederli giocare, raga. È veramente un piacere vederli giocare. Basta una gemma, raga. Basta una gemma. È un piacere vederli giocare. Hanno cominciato con un pochino di difficoltà per quel pocio, ma con una comp fatta bene. Vi prego, se state riguardando questo video, se state riguardando questo video oppure se state vedendo la live, fatemi un apprezzamento. Datemi un parere su questo Ghiglia con Piper. Mamma mia. Ragazzi miei, che acquisto che abbiamo fatto? Cioè... Che acquistone che abbiamo fatto? Fuori di testa. 16 gemme. Se la jumpa e chiude in volo, raga. Mamma mia. Ma come sta giocando? Signor Ghiglio. Mai visto nessuno giocare così bene. 2-0 per i clash. C'è stato un errore prima, abbiamo detto. Football, in realtà, ragazzi, rapina come terzo match. E... Questa volta vediamo un Ghiglio con Bull e sta facendo una fight proprio con Bull e va diretto verso la cassa addirittura. Ma fai... Ma fai... Queste sono tutte strategie part... Le neine, raga, che ulti ha fatto le neine, ragazzi? Che ulti ha fatto le neine? Mamma mia. Ghigli ulti all'indietro. E almeno rimane... Resta vivo per difendere. Quindi ci sta. Un'ottima giocata da parte sua. Infatti adesso va di bello. Bravo Ghigli. È buonissimo anche il Bull avversario che sta pushando di brutto. Non va giù, eh. Tom sicuramente farà un push. 8-bit su rapina. Simpatico. Eh, vabbè, 8-bit, raga! Eh, ti ho detto. Che spettacolo. Le neine. Non ti ha fatto le neine. Le neine. Non è male. Non è male, non è male per niente. Importantissimi danni all'indietro. Bravissimo Trebor. Attenzione a Tom che deve andare giù. Fa diversi danni ma non danni fondamentali per la cassa. 31%. Adesso il push. Adesso il push. Vai le neine che va giù. Non è andato giù le neine, ragazzi. Peccato, peccato. Ma se Trebor lancia la torretta... Vai, 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 vai! 10%, raga, 10%. Basterebbe una ulti di high chaos sulla cassa. Caricala, fratello. Caricala, caricala. Occhia le neine. È andato giù. Errore da parte del Team 3D, raga. Errore da parte del Team 3D. Ci ha provato, ma ha pushato malissimo. Mamma mia, è andata? Sì! È andata! 1-0! È andata! Non ci credo. Finale per 3-0. Non ci credo, ragazzi. Se è una finale per 3-0, ragazzi, non ci credo. Non può succedere. Caro Nemmo, ora siamo di fronte al match point. Non un match point. Al match point che ti dà 600 dollari. Mamma mia. Che ne dici? È una possibilità di andarla a vincere 250 mili. Che ne dici, signor Nemmo? Ripeto, ragazzi, che Ghiglie già sta facendo danni alla cassa gratis. Si è portata a casa un 20%. Ve ne parlo dopo, ve ne parlo dopo. No, vabbè, regà. Vinta. Finita. Non ci credo. Vinta. Vinta. Attenzione. Non gufiamola. È bellissima l'ulti di Tom. Non se l'aspettava, credo. Doppia cam sulle casse. Difesa la cassa in alto. Sono in situazioni di parità. In situazioni di totale parità. Tom jumperà. Grande Lenin che fa ottimi danni. C'è anche una bella... Bravissimo Ghiglie che apre. Vai, 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 Ghiglie. Bravissimo l'ulti. Bravissimo. Bravissimo. Occhio che la vincono. Occhio che la vincono. Dagli Ghiglie, dagli Ghiglie. Dagli Ghiglie. Gli altri danni sulla cassa. Poi basta una pushata semplicissima da parte di Higaos. 20-17, regà. Higaos jumpa la cassa. E vamo! No! 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 Sì! Vai così! Paffa mia! Mi sento male! 3-0 tutti a casa! Vince l'Italia! Vince l'Italia! Il team italiano. I player non sono italiani, ragazzi. Ma il team italiano di Luca Pagano. Porta a casa la seconda week. 600 dollari! Cosa abbiamo commentato, Nel? Guarda, io ci tenevo a fare i complimenti anche al team di Manny. Ic. Ma anche alle Alcappatoia. Tutti quanti, ragazzi. Tutti gli italiani che hanno giocato e provato a vincere. Ma oggi ha vinto un team italiano. La seconda week l'ha portata a casa un team italiano. Ma Trebor come è riuscito a tirare quel colpettino? Mamma mia. Concludo dicendo questo. Ovviamente si portano a casa 600 dollari. Parteciperanno al 100%. alla finale europea il 29 settembre. Lì ci sarà un altro prize pool. Quindi altri soldi, mi sembra, sui 2000 dollari all'incirca per il primo vincitore. I primi due ragazzi che vinceranno il torneo europeo, i primi due, andranno in finalissima in Corea del Sud. E lì ci saranno 250.000 dollari. Vi dico solo questo. Un bacione a NEM! Grazie del supporto! Questo è il video! Lasciate like! Supportate! Iscrivetevi, passate a NEM! Ciao bellissimi! Ciao ciao!